Dopo l'approvazione a maggioranza del nuovo Statuto Comunale e del Piano del Diritto allo Studio, il Consiglio Comunale di Albino è ora chiamato ad una seduta a fiume per l'esame delle circa 160 osservazioni e relative proposte di controdeduzione che costituiscono la terza variante al piano di governo del territorio. Le osservazioni sono state oggetto di esame e discussione in diverse sedute della Commissione Territorio che ha proceduto ad uno sfoltimento delle circa 240 osservazioni iniziali pervenute ed oggetto comunque di attenta valutazione da parte di tutti i componenti della Commissione. La seduta conciliare è convocata presso la Sala Civica Aldo Moro venerdì 22 novembre dalle ore 20 alle ore 24 con proseguo sabato 23 novembre dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00. In caso l'esame delle osservazioni non venisse completato, l'Assemblea conciliare riprenderà i lavori lunedì 25 novembre dalle ore 20 alle ore 24. Linea allo studio.